Rosa Perrotta, ex tronista di Uomini e Donne, è un personaggio molto seguito sui social, nell'ultimo periodo però è molto attaccata per alcune questioni La ragazza, come è possibile vedere, è incinta di uno splendido maschietto. La sua storia con Pietro Tartaglione prosegue a gonfie vele, e, molto presto, convoleranno anche a nozze L'ex tronista del programma di Maria De Filippi, però, non riesce proprio a riscuotere molta simpatia nel pubblico da casa Alcuni suoi atteggiamenti, infatti, risultano spesso antipatici al punto da farle guadagnare grosse critiche Al di sotto di uno degli ultimi post presenti sul suo Instagram, la Perrotta è stata pesantemente attaccata per il contenuto mostrato A quanto pare sta davvero esagerando.I contenuti di Rosa Perrotta pubblicati su IG Al momento Rosa Perrotta si trova in Egitto in compagnia di tre sue amiche. In questo viaggio di relax, infatti, il suo futuro marito Pietro Tartaglione non è stato coinvolto Nel corso dei giorni, l'ex tronista sta pubblicando una serie di contenuti, tra foto e video, che ritraggono i momenti più belli e salienti di questa esperienza Dando uno sguardo un po' più attento al profilo IG di Rosa, però, i contenuti pubblicati sembrano essere davvero sempre gli stessi Stesse pose, stesse espressioni, stesso pancione in bella mostra. Proprio per questo motivo, molti utenti non hanno potuto fare a meno di commentare in modo decisamente negativo tutta la questione Rosa Perrotta, infatti, è stata pesantemente attaccata al di sotto dell'ultimo post pubblicato sul suo profilo Ecco cosa le hanno scritto la maggior parte degli utenti.Il web non ne può più e sbotta contro Rosa La foto in questione, ritrae Rosa in acqua con un succinto costume nero. In bella mostra, oltre che la sua bellezza, e le sue curve, c'è ovviamente anche il pancione Anche la didascalia scelta dall'ex tronista non fa altro che mettere in risalto questo dettaglio La ragazza ha, infatti, scritto. Panzona in ammollo. Molti utenti, quindi, hanno colto la palla al balzo per sfogarsi contro di lei dicendole di mostrare sempre i soliti contenuti Ormai, tutte le sue ultime foto la ritraggono in acqua con volto serio e la pancia in vista Per questo, molti haters si sono detti notevolmente stufi di sentir parlare solo di gravidanza Alcune persone hanno detto che, in fondo, non è l'unica persona gravida in questo periodo, perciò farebbe bene a parlarne decisamente di meno Altri, invece, hanno posto l'accento sull'eccessiva serietà di Rosa Perrotta nelle foto, e per questo l'hanno attaccata Lei, naturalmente, si è egregiamente difesa da sola nei commenti Ciao!